Le piogge torrenziali e i fiumi esondati in Slovenia hanno devastato le regioni a nord del paese, dove in 24 ore è caduta la quantità di pioggia in genere registrata nell'intero mese di agosto. Tre persone sono morte e 16.000 sono rimaste senza elettricità. I danni più gravi nella regione della Carinzia, dove strade e ponti sono stati travolti dall'acqua. Trenutno sono priorità di riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a popolare. L'altra priorità è rappresentare le progetti di cui ci si quando ancora il ciclone Petar, ribattezzato Circe dai media, stava manifestando i suoi primi fenomeni estremi sul paese. Allerta rossa per alluvioni anche in Austria, dove preoccupa l'ingrossamento del fiume Drava, causato anche dalla portata in aumento degli affluenti locali in territorio sloveno. Le autorità hanno sconsigliato i viaggi in auto che non sono strettamente necessari.